Conflitto a Gaza, il capo della politica estera dell'Unione Europea, Joseph Borrell, propone sanzioni nei confronti di alcuni ministri israeliani per messaggi d'odio. Da Praga Ursula von der Leyen rilancia sulla necessità di un commissario europeo alla difesa e dice l'Europa deve stare in guardia. La Francia venderà 12 caccia Rafal alla Serbia. Il presidente francese Emmanuel Macron ha firmato l'accordo a Belgrado con il presidente serbo Aleksandar Vucic. Russian forces are closing in on Pokrovsk, a town in eastern Ukraine in the region of Donetsk. With a pre-war population of around 60,000 people, Pokrovsk is a major road and rail hub which lies on the key road used by the Ukrainian military to supply its forces in the area, specifically around Chesivyar and Kostiantynivka. It remains unclear if the Russian military command intends for Russian forces to fight their way entirely through Pokrovsk in frontal urban combat as they have through the smaller towns east and southeast of Pokrovsk, or it aims to envelop or encircle the city as Russian forces previously attempted and failed to do against Bakhmut and Avdiyevka. Ukrainian authorities have issued a mandatory evacuation order for families with the children. Around 6 to 700 people are leaving the town every day as the Russian forces are just a few kilometers away and advancing. Ursula von der Leyen prepara il terreno in vista dell'attesa nomina del commissario europeo alla difesa. Anche a Praga, in occasione di una conferenza sulla sicurezza, von der Leyen ha affermato che l'Europa deve fare di più per incrementare le proprie capacità di produzione di armi, considerando le minacce geopolitiche, in particolare la guerra in Ucraina. Alla conferenza la Presidente della Commissione ha dichiarato che è necessaria una revisione sistematica della difesa europea, mentre l'Unione sviluppa una produzione di difesa di dimensioni continentali. La Nato deve rimanere il centro della difesa comune, ma è necessario un pilastro europeo più forte, ha detto von der Leyen. Questo è il motivo per cui nel prossimo esecutivo europeo sarà nominato un vero e proprio commissario per la difesa. Il presidente francese Emmanuel Macron ha firmato un accordo con il presidente serbo Aleksandar Vucic per la vendita di 12 caccia a Rafale. L'annuncio è stato fatto durante una conferenza stampa a Belgrado in occasione della visita di Macron per rafforzare i legami della Serbia con l'Unione europea. Il presidente francese ha definito l'accordo storico e importante. Secondo Vucic, l'accordo per i caccia è una grande notizia. La Serbia ha bisogno di aggiornare la propria flotta aerea. Finora è stata la Russia il tradizionale fornitore di aerei militari alla Serbia, che ha rifiutato di aderire alle sanzioni internazionali contro Mosca dopo l'invasione dell'Ucraina. Macron ha avvertito che il gioco di equilibrio della Serbia tra le potenze mondiali è un'illusione e ha detto che Belgrado sarà in grado di protegere i propri interessi e preservare la propria identità solo come parte dell'Unione europea. Ma la vendita di Raffala alla Serbia ha sollevato dei dubbi perché Belgrado, Belgrado oltre a essere un alleato russo, ha spesso avuto un atteggiamento aggressivo nei confronti dei suoi vicini balcanici. Una delle preoccupazioni è come la Francia intende evitare che la tecnologia dei caccia venga condivisa con la Russia. Da quasi un anno in parallelo al conflitto a Gaza va avanti un fuoco incrociato tra il nord di Israele e il sud del Libano. Lo scontro tra l'esercito israeliano e Hezbollah, un movimento armato libanese sostenuto dall'Iran, ha già causato decine di morti e l'evacuazione di migliaia di persone verso Tel Aviv, il centro di Israele. Questo fronte nord mette il Medio Oriente a rischio di una guerra totale, secondo il sottosegretario generale delle Nazioni Unite per le operazioni di pace, Jean-Pierre Lacroix. Lacroix è a Bruxelles per il consiglio dei ministri della difesa dell'UE dove ha parlato a Euronews. Di recente ha visitato la regione e ritiene necessario un abbassamento immediato delle tensioni militari e politiche. Escalazione regionale perché queste situazioni in Gaza e le varie altre situazioni in Medio sono tutti interconnessi. Dall'attacco di Hamas il 7 ottobre scorso e dalla successiva campagna militare di Israele contro Gaza, il conflitto si è pericolosamente esteso al resto della regione. Il primo aprile l'aviazione israeliana ha colpito a Damasco in Siria, uccidendo funzionari iraniani, tre mesi dopo l'omicidio mirato del numero due di Hamas a Beirut. Il 14 aprile è arrivata la rappresaglia dell'Iran, 300 tra missili e droni, tutti intercettati in quello che è stato il primo attacco diretto del regime di Teheran contro Israele. Il 31 luglio proprio la capitale iraniana ha visto l'assassinio di Ismail Anieh, il capo politico di Hamas, arrivato per l'insediamento del nuovo presidente Pezeskian. Da allora gli Stati Uniti hanno rafforzato la presenza militare nella regione in attesa di una ritorsione dell'Iran. Diversi membri del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite hanno parlato dell'ipotesi in futuro di una missione di pace a Gaza. Per la Croa è prematura perché richiederebbe l'accordo delle parti in guerra e il voto unanime del Consiglio di Sicurezza, oltre che un'altra importante condizione. Dopo mesi di mediazioni tra Israele e Hamas si è trovato un accordo per tre brevi cessate il fuoco dalla prossima settimana per consentire una campagna di vaccinazione per 640.000 bambini della striscia di Gaza dopo alcuni casi di poliomielite. La politica estera, compresa la guerra in Ucraina, ha dominato il dibattito politico in vista delle elezioni statali della Germania orientale che si terranno a settembre. I partiti di estrema sinistra e di estrema destra chiedono negoziati con la Russia e l'interruzione delle forniture di armi all'Ucraina. Sul peso dei governi locali nelle decisioni federali ne abbiamo parlato con il politologo Cole Schmeider. Ma che si è un'altra parte, anche se si è un'altra parte, anche se si è un'altra parte ma è un'altra parte. Ma che si è un'altra parte, la parte le persone che si vedono, che si vedono le persone che si vedono, che il BASW e il BASW e il BASW di avere molte Stimmi. In Ostdeutschlande è il tema del mondo della guerra molto importante. La ostdeutschlande sono più sceplice, cosa la Sanktione gegen Russa e la Hilfe della Ukraine. E' un'unico che è il presidente del ministro, che è una cdU, che è un politico e un politico dico, che è un pocchio politico, che è un pocchio politico, che ha detto in settimana per i giorni di russi, che bisognava russi e russi e russi e russi e russi e russi per la cdU, che dovrebbe fare l'Ukraine non fare, che dovrebbe fare l'Ukraine e dovrebbe fare l'Ukraine russi e rimanere. Se vediamo un valore per la parte di Dio in tre parti delle parti di Dio si dovranno cosa dovranno per fare un'è? E' sicuramente un'è? La Dio è in un'attività in un'attività in un'attività in un'attività in un'attività in un'attività per fare un'attività e per fare un'attività e per fare un'attività e anche qui per fare un'attività sitza in un'attività scale G a quale punto il quale parte può iniziare a fare forti demandi alla tavola di negozio. Demandi che sono probabilmente di includere la haltazione delle deliverazioni per l'Ukraine. Liv Stroud, in Berlin, per Euro News. Eruzioni vulcaniche con schegge di vetro sottili e affilate come aghi. In Islanda, nella penisola di Reykjanes, le comunità che vivono vicino al vulcano in piena attività eruttiva dal 22 agosto sono state messe in allerta. L'Agenzia Meteorologica Islandese, infatti, ha informato la popolazione che dalle ultime eruzioni sono emersi i cosiddetti capelli di strega, composti da fibra di vetro. Sono caduti su un'ampia area circostante, ma le autorità rassicurano che non ci sono rischi per la salute, anche se molte strade restano chiuse. Il sito web di viaggi Iceland Review ricorda che gli aghi di vetro non vanno toccati a mani nude. Ma l'attività vulcanica continua ad attirare visitatori locali e internazionali. Sopra un punto caldo vulcanico nell'Atlantico settentrionale, registra in media un'eruzione ogni 4-5 anni. Quella più invasiva negli ultimi tempi è avvenuta nel 2010, quando le intense nubi di cenere avevano interrotto il trasporto aereo per mesi.